Spesso il caldo rende le cose più buone, varrà anche per la colla. Tormentato da questo dilemma ed invogliato dal prezzo di soli 3,99 euro della pistola per colla a caldo della Kairos, venduta da Eurospin, elegantemente racchiusa in una valigetta insieme a 10 ricariche di colla, procedo con l'acquisto. Dopo lo spacchettamento do inizio agli esperimenti che purtroppo non risolvono il dilemma, ma il mio gatto ha apprezzato il giochino fatto con vari scarti ed un po' di colla a caldo. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse initare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.